Camera e caffè con l'onorevole Luigi Dall'Ai, come ogni lunedì facciamo un po' il punto della situazione sulla settimana, partirei onorevole dal percorso congressuale del Partito Democratico, il dibattito che si sta sviluppando a livello nazionale, stiamo piano piano entrando nel vivo di questa discussione, magari l'importante sarebbe parlare di temi e non per slogan, come dire? Di temi e non di anatemi, sì buongiorno Alessandro, è vero il congresso del Partito Democratico sta entrando nel vivo, sono state presentate le tesi da parte di Matteo Renzi la scorsa settimana a Lingotto, è stata un bagno di folla, bello come al solito, devo dire anche gli altri candidati stanno esponendo programmi, in particolare Orlando, che ovviamente hanno una loro presa, ovviamente espongono delle ragioni anche di fondo, parte delle quali sicuramente molto condivisibili. Nella nostra città nei prossimi giorni e nella nostra provincia inizieremo i congressi di circolo, credo che sarà una riflessione interessante da fare, soprattutto per confrontarsi tra di noi, tra iscritti, perché sicuramente la divisione e anche i contrasti che molto spesso vengono giustamente riportati sui media nazionali, poi a livello locale invece possono trovare anche un elemento di confronto più approfondito e anche magari qualche convergenza più interessante, perché noi sappiamo che la nostra città, la nostra provincia sono state sempre fautrici di anticipazioni politiche sin dai tempi dell'Ulivo. Lei appoggerà ovviamente, come abbiamo già detto nelle scorse puntate Matteo Renzi, era presente però all'iniziativa di Orlando a Siena, ovviamente come rappresentante istituzionale, c'era tanta gente da Orlando. Sì, io appoggerò Renzi, come ho fatto fin dalle primissime primarie, credo che Renzi rappresenti quell'elemento innovatore di cui l'Italia ha bisogno e credo che rappresenti tuttora, malgrado ovviamente alcuni aggiustamenti che dobbiamo fare in corso d'opera rispetto alle tesi e alle approcci congressuali, credo che rappresenti tuttora l'elemento che più convintamente ci può portare a un cambiamento nella nostra nazione. Ovviamente Orlando è stato un ministro, prima del governo Letta era ministro dell'ambiente, ministro della giustizia sia con Matteo Renzi che con Gentiloni, un ministro sicuramente capacissimo, siamo anagraficamente molto vicini e anche come percorso culturale, devo dire che è abbastanza simile, quindi da questo punto di vista Andrea Orlando parla un linguaggio che mi è molto vicino e quindi sicuramente sono andato a sentirlo con piacere, a salutarlo e sicuramente rappresenta un aspetto, una parte del nostro partito molto interessante e che ha alcuni aspetti congressuali anche condivisibili. Parliamo di Fises perché c'è stato un lavoro di squadra per quanto riguarda la finanziaria senese di sviluppo, perché è importante che la Fises con questo lavoro di squadra continui a vivere sostanzialmente? Due sono gli aspetti fondamentali, uno il risultato, uno le modalità, il risultato più importante che è appunto il mantenimento in capo agli enti partecipanti che sono provincia, che sono comune e oltre agli altri ovviamente che sono riferimento territoriale, è importante che continuino a essere tali perché Fises è un elemento, diciamo una finanziaria importante per tutte quelle piccole attività imprenditoriali piccole o medio piccole del nostro territorio che ovviamente hanno più difficoltà di accesso al credito delle banche maggiori e infatti tra l'altro anche il tasso di successo dei finanziamenti di Fises è molto elevato, diciamo le sofferenze sono molto basse se confrontate anche rispetto alle banche maggiori. Il metodo ha accertato che quando si lavora in squadra si raggiungono i risultati, a parte ovviamente l'interfaccia istituzionale che è stato il sottosegretario Angelo Rughetti con il quale abbiamo un rapporto continuo non solo ovviamente per Fises che è stato di grande aiuto ma direi che con Susanna Cenni come collega in Parlamento, con Simone Bezzini come consigliere regionale, ovviamente con Fabrizio Nepi come presidente della provincia che è stato importante perché è una finanziaria di sviluppo di livello provinciale, quindi con la regione toscana che si è esposta anch'essa ovviamente a tutela della Fises, siamo riusciti a ottenere un bel risultato. Tanto noi ci prendiamo un caffè mentre parliamo di questi argomenti, uno altro degli argomenti insomma più attuali della politica, in questo momento ovviamente la questione lavoro con l'intervento del governo sui voucher che appunto hanno scongiurato, l'intervento che di fatto ha scongiurato il referendum. Ecco cosa si deve fare su questo argomento e cosa si può dire sui voucher onorevole? Sì, la questione voucher ovviamente sta destando una discussione in alcuni ambiti anche delle polemiche rispetto al fatto che l'abolizione totale dei voucher ovviamente viene a sottrarre ad alcune tipologie di lavoro uno strumento che sicuramente era risultato utile, in particolare il lavoro saltuario. Abbiamo scelto come governo e come forze politiche che lo sostengono di produrre uno sforzo per non spaccare ancora una volta il nostro paese, in particolare poi il mondo diciamo del lavoro tra chi era favorevole e chi è contrario all'utilizzo dei voucher. È chiaro che per far emergere quindi nella legalità quelle che sono le retribuzioni dal lavoro saltuario diciamo così, dobbiamo trovare uno strumento che sia agile, che sia agile soprattutto rispetto alla burocrazia che molto spesso è quella che frena le assunzioni anche temporanee e secondo me possiamo trovare facilmente anche delle modalità attraverso cui si possono retribuire in maniera chiara e ovviamente anche rispetto alla tassazione necessaria che comunque deve rimanere molto bassa, quei lavoretti che sono appunto saltuari che possono essere appunto i lavori anche diciamo fatti da persone che ovviamente hanno attività diverse e che ovviamente magari prestano loro opera per qualche ora o qualche giorno all'anno. Argomento interessante ovviamente questo del voucher del lavoro però vorrei parlare con lei per chiudere questa puntata di questa settimana diciamo di scuola. Questa sera ci sarà un'iniziativa sulla scuola, inclusione scolastica ma anche edilizia scolastica, tanti argomenti non legati alla scuola. Sì, come partito democratico della città e personalmente abbiamo deciso di cercare di creare un nuovo focus sull'argomento scuola, l'abbiamo chiamato il lunedì del ruffolo perché si svolge al circolo del ruffolo che molto gentilmente ci ospita, poi c'è un'affezione particolare, è anche il mio circolo e questo è il secondo appuntamento, ne abbiamo fatto uno sul ciclo 0-6 anni che appunto è la delega della legge 107 sulla buona scuola che si occupa della continuità didattica da 0-3 anni, da 3 anni a 6 anni. Stasera parliamo di inclusione scolastica, di inclusione in tutte quelle accezioni per esempio rispetto agli studenti portatori di disabilità e ne parliamo con ospiti importanti che non scopro adesso ma che ovviamente sono pubblici anche sulle locandine. Ecco, sì, è importante perché ovviamente è un mondo di cui spesso non si parla e che è lasciato esclusivamente ai servizi sociali, mentre invece l'aspetto dell'istruzione, l'aspetto della cura del progetto educativo all'interno delle scuole è particolarmente importante. Ovviamente la parte logistica e quindi anche degli spazi, dell'edilizia quindi dentro cui questo si esplica, sono importanti. Gli stanziamenti che il governo ha prodotto rispetto all'edilizia scolastica sono stati importanti e vediamo che anche gli spazi finanziari che proprio in settimana sono stati concessi ad alcuni comuni, tra cui Siena, tra cui Montepulciano, Sovicillo e poi Gibonzi, consentiranno ai comuni di spendere le risorse loro proprie che hanno anche in tema di edilizia scolastica. Grazie e buona settimana. Grazie a te, buona settimana a tutti voi. Grazie a tutti.